Buongiorno, siamo alla decima edizione di Georgina e abbiamo qua un libro fresco di stampa, fresco fresco, Esperienze di Citizen Science e qua abbiamo le due autrici, tutte e due dell'Istituto di Reggio e Genova, Finuccia Montanari che è stata assessore in tre comuni Reggio, Genova e anche Roma alla fine e Maria Rosa Ronzoni che è in disciplina dell'Università di Bernadette. La professoressa Maria Rita Schiatti e a Rosa Frammartino un progetto dal punto di vista dell'educazione ambientale, quindi per tutti gli insegnanti che sono interessati a utilizzare questa esperienza di citizenità, quindi di misurazione della qualità di arte, noi abbiamo fornito in sostanza un supporto anche bibliografico e anche videografico, quindi c'è una rassegna sia di liti che dedicati appunto al conoscere, alla profondità e al restituire e quindi è un ottimo, questo vediamo, è un ottimo strumento didattico per gli insegnanti che vogliono magari sia preparare gli studenti sull'educazione ambientale ma anche poi provare con queste centraline che portano pochissimi a sperimentare, a far sperimentare agli studenti come misurare la propria qualità dell'aria e la qualità dell'aria dei luoghi in cui non si pianta.